. Eccellenza, colpo di mercato del vasto Girardi, ingaggiato Michael Sisti. L'ex centrocampista del Nacchia, 19 gol l'anno scorso e conteso anche da Lisernia, alla fine sceglie il club alto molisano. Isernia. Michael Sisti era nel mirino sia del vasto Girardi che dell'Isernia, due compagini che in pieno calciomercato si stanno assicurando i pezzi fregiati dell'eccellenza molisana per disputare un campionato di vertice e puntare dritto al salto in Serie D. . Il club alto molisano è riuscito a battere la concorrenza agguerrita dell'Isernia e ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista, classe 92, che tanto bene ha fatto lo scorsa stagione con il Macchia. . Sisti, oltre ai tantissimi assist, ha siglato 19 gol, 9 in campionato e 10 in Coppa Italia. . Il giovane calciatore cresciuto nel Roccaravindola e dopo una breve esperienza della Capriatese, ha militato per due anni consecutivi nel Macchia, squadra del suo paese di origine. . Il forte centrocampista ammette di essere stato corteggiato dal club bianco-celeste. Ho scelto vasto Girardi, spiega, perché mi hanno voluto sin da quando è finito il campionato. . . Sono stato titubante fino all'ultimo. Mi è dispiaciuto non andare a Isernia perché lì lascio tanti compagni di squadra, con alcuni dei quali giocavo sin da bambino. . Non è stata una scelta dettata da motivi economici, precisa il ragazzo, l'offerta dei due club era più o meno la stessa. . Ho preferito la squadra alto molisana per una sfida personale, anche se devo ammettere che ho riscontrato un maggior interesse nei miei confronti, nel senso che mi sono sentito desiderato più dal vasto Girardi che dall'Isernia. . . In alto molise mi hanno fatto capire subito che avrebbero puntato fortemente su di me. .